Siamo qui nella Curia Generalizia delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antigaturae. Vorrei invitare tutta la famiglia vincenziana a ritrovarci davvero qui a Roma per il grande simposio che ricorda i 400 anni del nostro bellissimo carisma, il carisma vincenziano. Ecco, ritroviamoci qui davvero e ci ritroveremo insieme tutti intorno a Papa Francesco. Ci aspettiamo reciprocamente qui a Roma. Grazie a tutti.